mentre cercavo di documentare questo avvistamento di che sembrano degli ufo che combattono tra di loro anche si scambiano delle sfere non si capisce cosa sono sono andato a vedere della località e ho visto che era della nuova zelanda quindi sono andato a fare una ricerca di cosa succede nella nuova zelanda e guardate cosa ho trovato una notizia un link che vi metto in tutti nella descrizione e nei link interni della rai attenzione di tg rai lo sito il sito del tg rai che rivela che gli archivi della nuova zelanda riguardante gli ufo di avvistamenti di 50 anni sono stati aperti e comunicati pubblicamente dovevano essere pubblicati nel 2050 ma per motivi della legge non si capisce che legge della nuova zelanda li hanno pubblicati in questi giorni quindi attenzione notizia di tg rai il sito della rai che tutti gli archivi sugli ufo della nuova zelanda sono stati pubblicati e tra cui c'è una notizia di un alieno con una scarpa di numero 400 quindi andate a guardare il link che vi allego per saperne di più a guardare il link che vi allego per saperne di più